Saranno previsti dei controlli continuativi per dare la certezza anche rispetto ad eventuali provvedimenti forti di chiusura. La strategia predisposta dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura di Salerno è chiara. Arrivare anche alla repressione di comportamenti irregolari come quello di somministrare alcolici ai minori previo all'accertamento continuo da parte delle forze dell'Ordine è uno degli aspetti sui quali si sono confrontati questa mattina attorno al tavolo del prefetto Francesco Russo, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio, quello al commercio Dario Loffredo e i divertici delle forze dell'Ordine allarmati dagli episodi di violenza registrati nella movida salernitana. Presente anche il comandante della Polizia Municipale di Salerno, Vecchione, il sindaco Napoli ha infatti garantito l'impegno dei caschi bianchi di Salerno in coordinamenti interforze per intensificare i controlli. Disfatto dell'incontro con il prefetto? Devo dare atto al signor prefetto che ha una capacità di ascolto importante e una grande disponibilità nei riguardi delle amministrazioni. Abbiamo tenuto un tavolo, seguirà anche un tavolo tecnico, diciamo più strettamente operativo, ma già in questa tornata abbiamo individuato una serie di problematiche che sono state dichiarate al tavolo della sicurezza. Lei aveva chiesto un incremento dei controlli, è stato possibile già da questa riunione capire se è possibile fare? Noi abbiamo dato intanto la nostra disponibilità a fare delle azioni congiunte tra le varie forze di Polizia, Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, naturalmente sempre anche nel rispetto delle reciproche prerogative, ma fare forza e massa critica su alcuni aspetti. Commentando l'esito della riunione, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha assicurato anche analogo impegno per fronteggiare la richiesta di maggiore sicurezza che arriva dalla Piana del Sele, dove presto, ha annunciato il prefetto, ci sarà un incontro relativo a tutto il comprensorio. La disponibilità e l'attenzione e il lavoro sia nei fatti. La città è sempre molto attenzionata, c'è un'attività molto forte di controllo da parte delle forze di Polizia. Sabato sera stessa su alcuni degli episodi si è potuto intervenire immediatamente, anche perché era in corso anche un servizio straordinario. Noi ne facciamo parecchi. È stato confermato dall'amministrazione comunale un grande apprezzamento per quello che si fa, per il fatto che la città risulta molto controllata. Per cui noi abbiamo preso buona nota di tutto quando su alcune cose erano già stati effettuati dei controlli. Il sindaco diceva che ci sarà un tavolo tecnico adesso. Ci sarà sicuramente un tavolo tecnico perché ogni volta che c'è un comitato c'è successivamente un tavolo tecnico che predispone i servizi. C'è una richiesta analoga che le arriva sul problema della sicurezza anche dalla Piana del Sile. Il sindaco di Bellizzi diceva che prima o poi che presto convocherà anche... Siamo già in contatto, ci stiamo già confrontando. Stiamo cercando di fare un discorso di comprensorio che è un fatto estremamente importante. Voi sapete che a questo tengo in modo particolare. stiamo già predisponendo anche degli accordi, dei passaggi da fare insieme in modo anche lì da rafforzare quelle che sono la sicurezza del territorio.